La prova nelle ultime settimane ha aperto delle realtà importanti nel nord Italia, a Sassuolo, a Mantua, dove io personalmente ho presenziato alle conferenze di inaugurazione di queste realtà. Ci troviamo di fronte sempre a un sempre più piccolo gruppo di estremisti di sinistra che cercano senza nessuna motivazione politica di bloccare le nostre manifestazioni. Questo chiaramente non avviene e quel che poi si produce è un'attenzione forte da parte della popolazione locale verso le nostre tesi. Sicuramente in queste zone stiamo assistendo a una desigregazione dell'ambiente della Lega, quindi a un affluire di esponenti, attivisti della Lega nelle nostre file. assistiamo a un interesse forte verso quelle che sono le nostre tesi anti-banca, anti-finanza, che sono assolutamente uniche se pensiamo che tutto lo schieramento politico è assolutamente e monotamente su posizioni filo banca, filo finanza internazionale e filo BCE. le posizioni di Forza Nuova assumono effettivamente il prestigio di posizioni rivoluzionari e molto chiare. Pertanto con queste manifestazioni noi effettivamente assistiamo a una crescita del movimento non solamente dal punto di vista quantitativo, ma anche dal punto di vista qualitativo e di radicamento del consenso. Grazie a tutti.